Si guardò intorno, poi dicevo ragazzi, fra un'ora vengo e vi libero tutti. C'era la misera, non si è studiato, si è fatto l'università per la strada. Io sono nato in Venezia, nel quartiere Venezia, le porte non c'erano, c'erano le tendine, dove c'erano le porte non c'erano le chiavi, la chiave apriva tutte le porte e se una mancava da mangiare quella accanto gliela dava. L'estate venivamo, si chiamava l'acquario, si faceva le orse d'acquoteto con tutta la via Montebello, si arrivava lì. Gli impressionisti hanno sempre avuto paura dei macchiaioli, di fare un incontro diretto di tutti e due, perché i macchiaioli hanno una grande luce e loro sono sfaldati. Cos'è che manca a Livorno? Manca la cultura di sapere ve lo pensiamo. Abbiamo perso, come Livornesi, questa voglia di voler bene alla nostra città. Noi abbiamo tutti imparato a giocare per strada, la strada era la nostra palestra, ci si arrangiava. I mani a Livorno avevano un campo di pallacanestro trasformato poi in gabbioni. Siccome davamo fastidio ai bagnanti che intorno al gabbione all'ora di pranzo pranzavano e qualche pallonata la prendevano, il direttore che era Peroneri decise di metterci una rete. Una squadra c'era sempre Capecchi e dalla patirà c'era sempre Armando. Mi pareva l'ora di essere libero, stanco molto, anche quando facevo festa per dire a Luna essere lì per vedere se ci incastravo, anzi si faceva le corse per arrivare lì e entrare nell'otto, praticamente il titolare. Oltre che quei 4-5 amici, Lessi, Falorni, Armando, Sighetti e compagnia bella, altri amici. Manno Armando era al lavoro, stasera abbiamo una sfida a pancart, Armando, Lupo Balleri e lo scottino e io 4, però noi al fiume si iniziavano a 4 e si finiva a 4, ma si trovò 50 persone, ogni momento cambiavano due, Girardi, Martinelli, ecco, comunque vada si vinse 4-1. No, il Gabbione è venuto senza sapere chi l'abbia diritto. Sì, sì, nel Gabbione ci sono anche dei non professionisti che non hanno giocato in, diciamo, non hanno giocato ad altri livelli, che però sono più bravi di altri e ci sono anche dei professionisti che sono bravi. Io sono sempre stato un pessimo giocatore, cioè, io sto in porta e piglio le pallonate. Davi magari una botta, uno andava digropponato nella rete, questo vi rimaneva grigliato. Vent'anni si giova, ci siamo divertiti di sempre, qualcuno si rompe, è un avvicendamento. Fra noi non c'è mai stato una volta che qualcuno di noi si sia litigato. Gli ha messo tutto ma è bene giocarlo per amici, è molto più divertente che il calcetto perché il calcetto è asettico, la palla esce, ci si ferma, ci si interrompe. Ma c'era 5-600 persone sopra le cabine e dintorno alla rete. Le regole ce le facevamo noi, hai capito? All'infuori di qualche volta che quello invece di prendere la via la prendeva via e diceva no, è qui, ma quella fa parte del gioco, capito? Ma bastava aspettare un po' che rimaneva la tappa. Se io avessi agguantato uno per la maglia mi sarei sentito il peggio essere della terra perché non sei buono a rincorrere quello lì, datti una parte. 40 anni fa se c'era uno che pesava 150 kg e era il primo giorno che veniva su Banni Fiume, io che facevo parte capitano di una squadra, lo prendevo subito per metterlo in porta perché tappava la porta e a me mi davano un parrucchiere, il macellaio, lui che veniva di banca alle due e mezzo, vestitosi, perdevo 12 a 11, io facevo 11 gol, però l'ho perso quasi tutti. Enrico quando andò all'Inte la fece costruire nel piano gentile questa gabbia perché l'aveva vista proprio sul mare a Livorno perché poi dopo il 60 tutti i bagni hanno costruito la gabbia. E' bene andata a Livorno perché a Livorno ci sono i bagni che sono una realtà nazionale diversa dagli altri stabilimenti panieri in Italia. Ma il nostro benessere era bello di essere Livornici, aiutarsi l'un con l'altro, si le tiravi, si sciacquavi e poi si beveva, si beveva e era finito. Grazie a tutti. Com'è il Livornese? Bravi ragazzi, però lo spagnolo gli disse una volta alla televisione, dice lo stoccafisso lo sapete è buono, lo non uscite sì, il Livornese è buono ma digerirlo è dura.